Albano era in collegamento con la trasmissione per commentare proprio la kermesca Nora e la sua esclusione dalla finale del festival di Sanremo a cui ha partecipato con il brano di Rose e di Spine. In questo frangente, Costantino Vitaliano, anch'esso ospite in studio, ha posto una domanda ad Albano che non è stata per niente gradita al cantante. Infatti voleva conoscere le ultime news riguardanti la sua compagna, Loredana Lecciso. A quel punto il cantante pugliese si è arrabbiato e gli ha risposto in maniera visibilmente contrariata. A te cosa importa? Lo ha incalzato Albano. Costantino ha cercato di minimizzare la questione dicendo, in modo ironico, che se Albano si comporta così con lui è perché gli vuole molto bene. Ma Albano non ha gradito neanche questo commento ironico e, anzi, ha aggravato i toni della discussione dicendo a Costantino che solo una persona come lui poteva porgergli quella domanda. Alla fine il cantante ha chiuso la questione con una frecciatina mirata all'extronista. Una volta esisteva un Costantino, che è vissuto tantissimi anni prima di te, il quale diceva in Oxy New Vinces, ossia con questo vinci. Invece tu perdi. Così è terminata la lite nella trasmissione televisiva. Così Così Grazie a tutti.